Cosa succede se uniamo il primo capitolo di Granny 1 insieme alla versione 1.0? Ne c'è fuori questo gioco! Ascoltate pure bene! Come se ci fosse del greci dobbiamo affrontare questa cosa, che sarebbe sempre la nonnina. Il gioco si chiama Granny Remake, creato da un fan. Gioco disponibile su PC gratis, che andiamo a provare! C'è la classica passeggiata come nel Granny 1 PC, con questo gioco che ha anche un'alta definizione Super HD, dove Granny 1, 2 e 3 stranamente sono stati rimossi da Steam. Non si sa il motivo, con developer che sta cercando di risolvere il problema da mesi ormai. E quindi facciamo una bella passeggiata, con le cicale che cantano, questi bellissimi alberi, che sono ancora più brutti rispetto a Granny 1 PC. Facciamo una bella passeggiata durante la notte, con la nostra bellissima torcia. Oh, abbiamo trovato la casa! La casa della nonna! Però c'è un problema! La nonna si è fatto tanti interventi alla faccia, e alla fine ne è uccita fuori... Questa qui! Mamma mia, quant'è brutta! Avete visto la nonna? Ma questo accade quando si fa troppo lifting alla faccia! La nonna ha esagerato! E ne è uccitò fuori sta roba! Assurdo! Guardate anche la cameretta! Super HD! È un po' cambiata, anche se è sempre la stessa! Il letto dove possiamo nasconderci? Sì, possiamo andare di sotto! Beh, almeno la nonnina mi ha lasciato i regali di Natale, ma grazie! Anche se il Natale ormai è passato! I cassetti da aprire, dove non c'è niente, una bella finestra! Almeno si vede la mia bella torcia che illumina tutto, proprio come Grenny 1 PC! E io sento la cara nonnina che è diventata questa qui! Ma quanto sei brutta, veramente! Fatelo dire! Salve! Eccola! Là sotto! Come sempre dobbiamo scappare dalla porta dove il gioco è stato reso alla prima versione 1.0! Dove non c'era la soffitta, neanche la macchina! C'era soltanto il primo piano questa giorno e il piano terra! Eccola lì con il cappello di Natale! Anche se te lo sei messo resti sempre cattiva! Non c'era neanche Angela, in peccato! Mentre qua abbiamo trovato un pezzo di foto! E dobbiamo costruircelo! Non c'è neanche qui la scrivania! Siamo diventati poveri, eh cara nonna! Ha dovuto rifarsi la casa dopo tutti questi anni! Qui non c'è niente, sento le porte aprirsi e non è mai una cosa positiva! Abbiamo gli armadietti che comunque sono più belli qua rispetto a Granny 1! Almeno sono fatti meglio! Abbiamo anche gli oggettini mentre... Ciao amichetta! Che fai? Il ballo da qui è buggatissima! Così palla! Aiuto! Lasciami stare! Ho trovato le cesoie! Devo tagliare i fili di sotto! Mamma mia che brutti versi che fa questa! Ok, prima ho tagliato ovviamente come Granny 1! Ci sono le stesse cose da fare! Quindi dai! Taglia qui! Abbiamo fatto il primo lucchetto! Mentre il Maggio è messo qui perché avremo un giorno bonus! Ma non ci interessa! I soldi della pensione della nonnina! Dove sei nonna bella? Stai camperando lì, vero? Che questa qui è buggatissima! Non c'è neanche il garage! Ma tanto non gli serve a niente questa la macchina! Nonna bella! Ti sento... Calma! Giro giro tondo! Me ne vado via! Ma che hai fatto qua? Un pupazzo di neve! Ma che cosa mi dovrebbe rappresentare? Me lo dovresti spiegare! Vabbè, giro giro tondo facciamo! Ho trovato una chiave! La safe key! Chiave della cassaforte! Me la fai usare per favore? Che vuoi rubarti i soldi della pensione, nonna? Mamma mia! Grutto lifting! Ti sei fatto! Ti sei rovinato tutta la pelle! Neanche le porte usi più ormai! Meglio così non perdiamo tempo mentre qua mi baggo! Abbiamo trovato la master key che non ci serve a niente! Oltre al lifting si è diventata bella cecata pure! Oh, 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 calma! Questa qui la facciamo qua che non ci serve adesso! Via, via, via! Microonde, niente? Da mangiare? Purtroppo no! E qua ci sono sempre gli stessi quadri! Con lei raffigurato! Una meraviglia! Ma dov'è il nonno Gratpa? Ma che ci fa questo qui? Non dovrebbe trovarsi in chiesa! La nonna ha rapinato la chiesa pure! No, ma perché? Gli stessi quadri! Questo pupazzo di neve dove gli manca la testa! Anci, questa è la testa! Ma quasi quasi mi sembra Gratpa con la faccia che ha! Quasi quasi! Con il pupazzo di neve! Qui che abbiamo? Wow, una bella tv! 9, 7, 4, 7! Mi sa che avrà fatto tanto rumore! Ciao! Vado a usare il codice! Che va usato qua! 9, 7, 4, 7! Funzionato! Ciao, nonnina bella! Anci, bella per niente! Che sei pure buggata e non sali qua sopra! Vieni qua! Dammi il regalo di Natale! Anci, meglio di no! Nonnina bella! Bella di niente! Almeno le lucine le hai messe! E fatta una bella decorazione! Ne vado qui dentro! Vediamo qua nei cassetti! Comunque la cucina è migliorata! Su Grignone era più brutta! I mobili soprattutto! Anche se lei non cambia mai! Sempre brutta! Facciami in pace! Nonna! Che poi giro giro tondo pure! Che facciamo? A chiapparella? Ok! Qui c'è qualcosa! Mi sa di no! Bellissimo anche quell'albero di Natale! Che cosa mi dovrebbe rappresentare! Un bel niente! Mi sa! C'è qualcosa qui! Vabbè! Buonanotte! Sonidoro! Scappiamo! La casa è bella piccola come versione 1.0! Ma! Che bell'albero di Natale! Una stella a metà! E poi qua c'è una specie di presepe! Mamma mia! Quanta bella fantasia la nonna! Con gli anni che passa questa impazziccia è sempre di più! Fammi controllare! Qui c'è qualcosa! I cassetti vuoti! Qui abbiamo qualcosa! Il martello! Te lo butto in testa nonna! Vieni qua! So! Almeno le porte le sai aprire! Brava! In questo sei rimasto! Allora usiamo! Ok! Ho distrutto! Adesso abbiamo tutto in teoria! Per scapparcene via! Però! Prima di andarcene ti devo trollare perché mi vuoi impedire di andarmene! Via nonna! Eccola qui! E' un'altra cosa! Mi hanno cambiato pure gli oggetti! Usiamola! Sì! Ce ne siamo andati! Ma com'è diventata la faccia? Gli occhi sono cambiati! Ancora più brutta di prima! Tende! Fine! Abbiamo sconfitto la nonna buggata! Mamma mia! Che bello! Lingua! Ovviamente inglese e russo! Quindi mi sa che i russi hanno creato questo gioco! Allora andiamo a provare la modalità Nightmare! Modalità difficile! Anche l'oscurità! Mettiamo tutto! E salve! Ma che è diventato? Mi sa che ho bevuto troppo! Anzi! La nonna mi ha dato qualcosa che mi ha fatto male la testa! Perché non vedo un bel niente! L'oscurità! Ma come dovrei giocare così? Non ha proprio senso! Mi ha pure chiuso dentro! Ma dai nonna! Oh! Adesso arriva! Nasconditi! Non mi ha visto, vero? No! Ciao, nonnita! Ehi! Allora, è aperto! Sì, però non vedo niente! Sì, è aperto! Nonnita, dove sei? Sono ciecato! Non vedo un bel niente! Nonnina! Dammi un abbraccio! Wow! Ma come ce l'hai la bocca! Come un polipo, quasi! Il polipo di Granny 2, la stessa bocca! Anche se lei è più piccola! Ok, ragazzi! Non esiste un finale di game over! Perfetto! Per favore! Togliamo la modalità Nightmare! Voglio solo vedere una piccola cosetta prima di terminare il video! Ah, è tornata la luce! Stavolta non ho bevuto sostanze tossiche che mi hanno reso in quel modo prima! Nonnita! La porta la chiudi? No, rimane aperta! Dove sei? Vieni qua! Voglio giocare con te! Ti faccio cadere i quadri! Vieni, vieni! Oh! Calma! Ma se mi nascondo sotto il letto si abbasserà? No! È buggata! Non può abbassarsi! È brava la nonnita! Vieni qua! Prima era buggatissima, non faceva niente! Mamma mia! Ciao, sono qui! Come fai? Versi brutti! Al bagno era che mi stava aspettando! Ma il bagno non l'abbiamo visto! E ha pure chiusa a chiave! Adesso come vado? Ah, ecco! Ma cosa? Ha smontato tutto! Ha tolto il gabinetto, la vasca! Adesso come fai i tuoi bisogni? Ah, li fa per terra! Bello questo ketchup! Mi sa che abbiamo esagerato troppo con le patatine fritte! Ecco la nonnina! Vieni qua! Voglio vedere se mi prende se mi nascondo dentro l'armadietto! Qua dentro! Vediamo! Perché batte il cuore forte? Ah, ok! Se andiamo dentro gli armadietti o sotto il letto non si prende! Allora, terminiamo qui il video, cari amici! Ecco qui! Dammi un bellissimo bacio e buonanotte! Adesso vi lascio la lista dei saluti! Grazie per aver visto questo video e alla prossima! Ciao ciao!